Sicuramente è una bella sensazione ritornare allo stadio e rivedere la gente che tifava per noi e quindi sarà sicuramente il dodicesimo uomo in campo e ci aiuteranno tantissimo. Sì, sicuramente è stata una bella partita, stiamo lavorando tanto perché al campionato manca ancora un mese quindi sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare, però siamo contenti della vittoria e l'importante è aver agito nel modo giusto. No, non è difficile perché comunque sappiamo quello che dobbiamo fare, c'è tanta qualità in campo e l'importante è fare quello che proviamo, farlo in maniera convinta perché ci divertiremo sicuramente.